Ciao a tutti e bentornati a Pidole di Storia, bentornati alla nostra serie sui mondiali con cui raccontiamo la storia dei mondiali di calcio dal primo nel 1930 fino agli ultimi per accompagnarvi fino ai mondiali in Qatar di quest'inverno a cui purtroppo come sapete noi non parteciperemo. In questa puntata racconteremo quei mondiali in cui il calcio come si disse tornò a casa, laddove era stato inventato, laddove era stato giocato per la prima volta cioè in Inghilterra, i mondiali d'Inghilterra 1966. I mondiali in Cile che abbiamo raccontato nella scorsa puntata furono mondiali molto poco apprezzati, poco pubblico presente sugli spalti, un calcio violento pieno di polemica a causa di arbitri che nel migliore dei casi erano scarsi e nel peggiore erano corrotti, un calcio in cui i falli la fecero da padrone, peraltro un calcio molto difensivo che cancellava tanti anni di gioco offensivo arioso come si era visto prima della seconda guerra mondiale e poi nei mondiali immediatamente successivi, beh il mondiale del 66 come vedremo non è molto diverso, l'unica differenza, la difesa rimarrà, rimarrà il gioco violento, rimarranno gli arbitri rivedibili, l'unica differenza saranno i campi di gioco che seppur molto vecchi saranno meravigliosi perché veramente il calcio tornava a casa laddove era iniziato e laddove era ormai da tempo diventato praticamente una religione. Ci saranno tanti dubbi anche in finale ma non voglio anticiparvi molto, iniziamo a raccontare, prima di farlo come sempre se non siete già iscritti al canale cliccate sulla campanella per essere aggiornati ogni volta che esce un nuovo video, sigla e poi iniziamo a raccontare i mondiali di Inghilterra 1966. Come era il mondo che nel 1966 si apprestava a vedere questi mondiali in Inghilterra? Beh era un mondo in cambiamento, un mondo in cambiamento dal punto di vista culturale, ad esempio dal punto di vista musicale, i Beatles sono ormai la band più famosa del mondo, addirittura John Lennon arriverà in questi anni a dire che erano più famosi di Gesù Cristo, parole che credo pochi anni prima non avrebbe potuto ne osato dire. Stanno sorgendo grossi movimenti di rinnovamento musicale in tutto il mondo, a cominciare dall'Inghilterra, dall'America, rinnovamento nel cinema ovviamente, e tutto questo sta portando anche a un rinnovamento politico. Tra due anni, nel 1968, scoppierà appunto il 68 in Europa che cambierà la politica per molti anni. Sotto altri punti di vista però la società è ancora molto indietro e, ad esempio, vi lascio un piccolo esempio, ma in futuro ci dedicheremo sicuramente una pillola, il 1966 è l'anno in cui una ragazza, Franca Viola, viene rapita e violentata e chi l'ha violentata, che in realtà era un suo spasimante rifiutato, per poter evitare qualunque punizione, si offre di sposarla. Ora, la cosa strana non è questa, perché purtroppo all'epoca succedeva spesso, era persino previsto nel codice penale che chi violentava una ragazza e poi la sposava non veniva per questo punito, ma la cosa particolare fu che Franca Viola, appoggiata dai genitori, rifiutò questo matrimonio riparatore. Incredibilmente buona parte della società, soprattutto della sua zona, si schierò contro di lei, che era la vittima, ma questo iniziò a mettere in moto una serie di eventi che in qualche modo fecero fare un piccolo passo avanti al nostro codice penale e perché no a tutta la nostra cultura. Ma ripeto, io perché è una cosa secondo me importantissima, ci dedicheremo una pillola, ma mi sembrava giusto citarla, nel 1966. Ad ogni modo, per tornare al calcio, che poi è il motivo per cui state ascoltando questa pillola, ovviamente ci si può chiedere perché i primi mondiali in Inghilterra furono solo nel 1966? Beh, l'abbiamo un po' raccontato. L'Inghilterra inizialmente aveva un po' snobbato i mondiali, fino al 1950 non ci aveva mai partecipato, convinta di essere troppo superiore alle altre nazionali per poter partecipare e quando finalmente si era decisa a farlo, appunto nel 50, si era beccata una bella scopo, una bella doccia gelata e aveva scoperto che le cose non andavano esattamente così e che ormai il gioco del calcio internazionale si giocava forse meglio in altri paesi. Alla fine però avevano deciso di organizzare finalmente dei mondiali in casa, con l'obiettivo anche di cercare di vincere finalmente quella coppa sconfitte che stavano iniziando a diventare un po' pesanti per i morali degli inglesi e riuscirono a organizzarlo. Alcuni dicono, perché ovviamente non si poteva rifiutare un'offerta del genere da che aveva inventato il calcio, qualcuno dice per festeggiare i cent'anni dalla fondazione dell'Associazione Calcistica Inglese, che vennero festeggiati nel 1963, qualche malelingua disse che venne scelta l'Inghilterra perché l'allora presidente della FIFA era inglese. Scegliete voi quale di queste versioni vogliate. Ad ogni modo gli inglesi riuscirono a organizzare un mondiale che dal punto di vista della spettacolarità dell'organizzazione non ebbe grossi paragoni con i mondiali precedenti. Quelli in Cile erano stati mondiali poveri, giocati in quattro stadi, in cui la maggior parte delle partite, tranne quelle della nazionale di casa, non vedevano un grande afflusso di pubblico. I mondiali inglesi furono mondiali in cui gli stadi erano letteralmente sempre straboccanti di pubblico. Gli stadi erano abbastanza vecchi. Pensate che quello più recente era lo stadio di Wembley a Londra, che sarà poi lo stadio della finale, che aveva già 43 anni, quindi non era esattamente uno stadio nuovissimo, ma tutti gli stadi nelle sette città prescente per ospitare i mondiali daranno veramente dimostrazione di come doveva essere uno stadio di calcio. Si iniziò a parlare di stile inglese degli stadi. Pieni di pubblico, belli da vedere, con dei campi d'erba perfetti, ripeto, ben diversi da quelli dei mondiali in Cile. C'è una curiosità sugli stadi. Inizialmente dovevano essere sette stadi in sette città, ma una delle partite che si sarebbe dovuto giocare a Londra, a Wembley, non si poteva giocare allo stadio, perché il proprietario dello stadio, che era privato, il giorno di quella partita aveva già organizzato una corsa di cani, di cani, quelle corse in cui si scommette su chi arrivi primo, e rifiutò, nonostante fossero i mondiali, assolutamente di cambiare i suoi programmi, perché probabilmente gli fruttava più denaro. E quindi alla fine si fu costretto a giocare una partita di un girone di qualificazione in un altro stadio di Londra, portando così gli stadi a otto. Ve la lascio come curiosità. Fu il mondiale in cui per la prima volta si presentarono per partecipare più nazioni nel dopoguerra. Sapete che dopo la seconda guerra mondiale il numero di nazioni che si erano candidate ai mondiali era sceso, soprattutto perché ovviamente c'era un costo per poter partecipare. Ebbene, a questi mondiali si candidarono ben 74 nazioni da tutto il mondo. Due posti, dei 16 previsti per i mondiali. La struttura del mondiale non cambierà rispetto a quella precedente. Quattro gironi da quattro squadre, di cui vi impasseranno le prime due, ormai era una formula abbastanza consolidata, ebbene delle 16 squadre che sarebbero dovute andare ai mondiali, due ovviamente l'hanno già decise. Una era l'Inghilterra, quindi un'europea, quella di casa. Una era il Brasile, quindi una sudamericana, perché aveva vinto gli ultimi mondiali, quelli di Cile, 62. Come assegnare gli altri posti? Beh, diciamo che le polemiche che c'erano state dopo il 62 e il tentativo di escludere del tutto nazioni che non fossero europee e sudamericane, qualche effetto l'avevano avuto, ma non tantissimo. Si decise che l'Europa avrebbe dovuto avere ben 10 posti, quindi uno per l'Inghilterra, nove che sarebbero dovute uscire dai gironi di qualificazione, tra poco ne parliamo. Il Sudamerica avrebbe dovuto avere quattro posti, uno brasiliano e tre da altre squadre, e questa volta non ci furono grosse sorprese, perché le squadre da tutti considerate le più forti, cioè il Cile, l'Uruguay e l'Argentina, riuscirono a qualificarsi senza problemi. Questa volta il Nordamerica, Centro Nordamerica, ebbe un posto assicurato, mentre la volta prima aveva dovuto riuscire a ottenerlo con uno spareggio contro Sudamerica, posto assicurato che ancora una volta fu preso dal Messico, che in questo periodo, pur non essendo a livello delle squadre sudamericane, era sicuramente di gran lunga la più forte squadra del Centro America. Rimaneva un posto solo, e chi si avrebbe preso questo posto? Beh, dato che c'erano ancora due grosse confederazioni, quella africana e quella asiatica, si decise che si sarebbero organizzati dei gironi tra le due confederazioni, e le vincenti si sarebbero scontrate fra di loro per l'unico posto. La cosa? Non piacque a nessuno, soprattutto non piacque alle africane, che decisero di disertare in massa le qualificazioni. 15 squadre che si sarebbero dovute giocare quelle qualificazioni si rifiutarono, e così nessuna squadra africana potè partecipare ai mondiali. Anche la Siria, che giocava nel girone europeo, per solidarietà, decise di rinunciare al suo posto e a giocare le qualificazioni. A questo punto le qualificazioni passarono del tutto in mano all'Asia. In realtà il girone asiatico non era un girone proprio solo strettamente asiatico. Intanto mancavano le nazioni del Medio Oriente, che giocavano in Europa. Poi c'erano delle nazioni in più, perché, dato che non esisteva il girone oceanico, non esisteva proprio fisicamente una confederazione oceanica, l'Australia, che era la prima nazione a voler partecipare ai mondiali, era stata inserita nel girone asiatico. Cosa che peraltro succede ancora adesso, ma per scelta dell'Australia. Dopo essere stata per tanti anni in quell'oceanico. Ora, chi dominava a questo punto le qualificazioni asiatiche, che portavano dritta e dritta ai mondiali? Ve l'ho già detto. Il Giappone e la Corea del Sud. E tutto sembrava prospettare che ancora una volta le cose sarebbero andate allo stesso modo, con queste due nazioni a giocarsi il posto. Tutto era già apparecchiato. Teoricamente si sarebbero fatte le qualificazioni in Giappone, e una delle due verosimente sarebbe passata. All'ultimo però le cose cambiarono. Invece di giocare in Giappone, vennero spostate le qualificazioni in Cambogia, e per protesta contro questo spostamento sia il Giappone che la Corea del Sud, si rifiutarono di partecipare. E così le uniche due nazioni a giocarsi il passaggio furono la Corea del Nord, che si presentava per la prima volta, e l'Australia. Ora, la Corea del Nord non era nota per essere una squadra particolarmente forte, ma l'Australia era fatta veramente di dilettanti, si giocava tutt'altro da loro parti, e quindi con due vittorie la Corea del Nord riuscì ad andare ai mondiali. Ed è inutile che ve lo dica che tutte le altre 15 nazioni non speravano altro che di beccarla. Non sarà una bella scelta. La maggior parte dei posti però, come vi dicevo, fu per l'Europa. 32 squadre si presentarono per 9 posti, e vennero organizzati dei gironi principalmente da 4 squadre e qualcuno da 3. Ci furono delle sorprese, in particolare rispetto all'anno precedente. La squadra che era arrivata in finale col Brasile, cioè la Cecoslovacchia, fu eliminata nei gironi, ad opera del Portogallo, in cui giocava quello che all'epoca era il più forte giocatore europeo, cioè Eusebio. Ma ne parleremo tra poco. Non solo la Cecoslovacchia fu eliminata, ma anche la Jugoslavia, che si era fermata solo in semifinale, sarà eliminata dalla Francia. Due totali sorprese, a cui fortunatamente questa volta non si aggiunse l'Italia. L'Italia in effetti si trovò in un girone molto facile, senza grosse sorprese, che supererà in maniera abbastanza facile, ma d'altronde all'epoca il calcio italiano era in grandissimo spolvero. Venivamo praticamente da 4 anni in cui le nostre squadre avevano fatto quello che volevano a livello europeo. Innanzitutto avevano vinto, pensate, 3 coppe campioni su 4. Uno l'aveva vinta il Milan e due le aveva vinte l'Inter, la grande Inter, come si chiamava all'epoca, di Elenio Herrera, che anche nel campionato italiano dominava e che si era dovuta fermare un anno solo per la vittoria del Bologna, ad uno spareggio, ma che praticamente in quegli anni dominava completamente la scena italiana. Addirittura nel campo mondiale andavamo bene, perché pensate che avevamo vinto ben due intercontinentali, solo il Milan non era riuscito a ottenerla più per l'arbitraggio, che nello spareggio con il Santos non era stato esattamente un arbitraggio molto favorevole, che per mancanza di capacità. Ma insomma, ce l'eravamo veramente giocata alla grande. E come ce le giocavamo queste partite? Beh, ce le giocavamo con il catenaccio, questa tattica difensiva, che un po' per antonomasia, ma in realtà vista con gli occhi di oggi non era così tanto difensiva, ma per l'epoca lo era eccome, che era fatta proprio di una difesa molto arcigna, bloccata, che impediva teoricamente agli attaccanti avversari di segnare, per poi lanciare le punte in avanti e andare a segnare. Tutto questo, peraltro, almeno per quanto riguardava l'Italia, con, grazie ad un ottimo centrocampo. Ad allenare l'Italia da qualche anno, c'era Edmondo Fabri. Finalmente si era deciso di mettere da parte quel sistema misto con un allenatore che però veniva supportato dai giornalisti. No, si era scelto un allenatore, un allenatore che era stato scelto anche per le sue capacità, perché prima di allenare l'Italia aveva guidato il Mantova ad una specie di miracolo, portando dalla Serie D alla Serie A, giocando un gioco spumeggiante, tanto che era definito il Brasile di provincia, o il Brasile d'Italia, scegliete voi, e proprio per questo, quando peraltro si parlava di lui addirittura perché potesse diventare allenatore dell'Inter, gli si era proposta la panchina della nazionale che Fabri aveva accettato. La sua squadra era nata sostanzialmente fondendo quelle che all'epoca erano le due principali squadre italiane, cioè appunto l'Inter, ovviamente, da una parte, e dall'altra parte il Bologna, che come vi dicevo era stata l'unica a vincere un campionato in questi anni, unendo le due squadre con pochi altri inserimenti, soprattutto laddove quelle due squadre avevano dei giocatori stranieri. In porta c'era Albertosi, che all'epoca giocava nella Fiorentina, ma che otterrà qualcosa in più degli scudetti giocando al Cagliari e al Milan. Considerato all'epoca un ottimo portiere, aveva sostituito Buffon, che ormai era troppo vecchio. Dove però la nostra difesa sembrava poter veramente dire la sua, era appunto tra i difensori. Ora, sulla carta, avrebbe potuto prendere la difesa dell'Inter e trasportarla in nazionale, e chissà, magari sarebbe stata una buona scelta. C'era un problema, Fabri non apprezzava il libero dell'Inter, che era Armando Picchi, che peraltro è considerato uno dei migliori liberi della storia, e proprio per questo gli preferiva un giocatore del Bologna, Janik, e questo creava una piccola falla in una difesa che per il resto era veramente ottima. In quella difesa ottima, a spiccare tra tutti, era un terzino, Giacinto Facchetti, dell'Inter, un terzino molto aggressivo, che era bravo sia in marcatura, ma anche molto a spingersi avanti, un difensore gole ad orre, uno dei migliori giocatori che aveva l'Inter in quel momento. A centrocampo, di qualità, ce n'era quanta si voleva. Teoricamente il capitano era Salvador, che era anche capitano della Juventus, tra l'altro, ma giocherà solamente una partita, la seconda, e verrà sostituito sia a centrocampo, che come capitano, da Bulgarelli, che abbiamo già parlato nella scorsa puntata, giocava nel Bologna, ed era anche capitano del Bologna. I due uomini, però, di maggior qualità, erano due, tra virgolette, ragazzini, non proprio più ragazzini, ma comunque molto giovani, uno dell'Inter, e uno del Milan. A centrocampo, in quel mondiale dell'Inter, giocava Sandro Mazzola, che era una mezzala, molto abile, molto tecnico, con una spiccata propensione, ad andare in avanti, a segnare, tanto che nella sua vita, verrà progressivamente anche spostato, sempre più in avanti, fino a quasi, a diventare una seconda punta. A fianco a lui, con compiti invece più di rifinitore, di creatore, di schemi di gioco, giocava quello che all'epoca era considerato, il miglior giocatore italiano, cioè Rivera, che non era più proprio un ragazzino, come nei mondiali del 62, anzi veniva da quattro anni, di grandi, grandi, grandi giocate, e che era considerato appunto, il faro dell'Italia. Quindi insomma, un buon centrocampo, anzi un ottimo centrocampo, tra quattro anni, riparleremo di questi due, Mazzola e Rivera, perché proprio a causa, dello spostamento tattico, di Mazzola, tra i due, inizierà una specie di staffetta, di discussione, se fossero compatibili, ma ripeto, ne parleremo tra quattro anni, in questo mondiale, sembra che nessuno si preoccupasse, di che i due, potessero non giocare insieme. In attacco in realtà, non avevamo forse, dei grandi nomi, e non voglio allungare troppo il brodo, ma voglio citare due giocatori, per motivi diversi, due giocatori che erano aggregati, alla spedizione azzurra, ma che non erano titolari, che curiosamente, si chiamavano tutte e due Luigi. Uno è Luigi, più o meglio conosciuto come Gigi Riva, che era giovanissimo, giocava nel Cagliari, era stato portato da Fabri, ma solo come apprendista, non faceva parte della squadra, non poteva, e non lo farà in effetti, scendere in campo, una scelta che forse non sarà azzeccatissima, perché pensate, l'anno dopo, Riva sarà capocannoniere del campionato italiano, quindi forse, gli si poteva dare qualche chance. L'altro giocatore, che invece faceva parte dei 22 convocati, ma che giocherà solo la seconda partita, perché non era molto apprezzato da Fabri, era Luigi Meroni. Meroni, detto la farfalla, era un giocatore del Torino, era un giocatore anticonformista, capelli lunghi, appassionato di musica rock, musica alternativa, era conosciutissimo e amatissimo a Torino, era tecnico, era abilissimo col pallone, era considerato veramente un giocatore che, diciamo che forse, si fosse trovato in un mondo un po' più pronto ad affrontare questi giocatori anticonformisti, a differenza dell'Italia, con la sua mentalità chiusa, sarebbe magari stato un idolo come George Best. Conviveva con una donna che era ancora sposata, all'epoca non esisteva il divorzio, tutte cose che a una parte della stampa, e forse anche a Fabri, non piacevano, e quindi la sua esclusione sarà più che altro legata a queste motivazioni, piuttosto che tecnica. Meroni, purtroppo, non parteciperà mai più a nessun altro mondiale, perché nel 1967, pensate, la folla e sfortuna, sarà investito da una macchina a Torino, e morirà praticamente sul colpo. Pensate che il ragazzo che lo investì, peraltro senza poterne nulla, perché Meroni, per evitare un'altra macchina, si era spostato ed era stato investito, che si chiamava Tiglio Romero, sarà poi addirittura presidente del Torino, 30 anni dopo, insomma, una certa sfortuna. Purtroppo, volevo citarlo, perché trovo che sia giusto citare questo giocatore, anche se, ripeto, l'impronta sulla nazionale e mondiali fu veramente minima, ma così. E' anche uno spunto per approfondire. Ad ogni modo, come vi dicevo, l'Italia non ebbe grossi problemi a qualificarsi. Perdemmo una partita in Scozia, ma la perdemmo quando ormai il discorso qualificazione era probabilmente più o meno chiuso e vincendo l'ultima per 3-0 con la Scozia lo chiudemmo definitivamente, vincendo tranquillamente il girone e arrivando finalmente ai mondiali. Peraltro, subito dopo il girone, prima dei mondiali, organizzammo altre tre partite che vincemmo con dei punteggi tennistici. Insomma, in Italia qualcuno un po' ci sperava che potessimo vincere ai mondiali, però se ci pensate già nel 62 si era detto che noi eravamo l'unica nazionale a poter impensierire il Brasile, beh, qualcuno continuava a dirlo adesso. Anche perché la nazionale che tutti pensavano poter essere favorita era proprio il Brasile. C'è una curiosità. Nel 1965 si era giocato un torneo dei campioni, chiamiamolo così, in Brasile. Un torneo tra quattro squadre, teoricamente quelle più forti che si prospettavano a giocare nel Mondiale del 66, a cui avevano partecipato proprio il Brasile, l'Argentina, il Portogallo e l'Inghilterra, che ci fa capire un po' quali fossero considerate le nazionali più probabili candidate alla vittoria finale. L'aveva vinto a sorpresa l'Argentina, che aveva battuto il Brasile e le altre due formazioni, ma insomma, capite quali tra le europee erano considerate le più forti. Ad ogni modo, finalmente, una volta selezionate le 16 squadre, fu il momento di iniziare a giocare. E invece no, e invece no, perché ci fu un problema. Abbiamo già più volte parlato della Coppa dei Mondiali. All'epoca la Coppa era la famosa Coppa Rimè, dal nome di chi aveva deciso per la prima volta di organizzare i mondiali, Jules Rimè, una coppa che sulla carta, questo era regolamento, ve lo rispiego perché qualcuno mi sono reso conto non l'ha tanto capito, si era deciso che sarebbe stata assegnata alla nazione vincitrice che l'avrebbe tenuta per quattro anni per poi darla a disposizione per i mondiali successivi. Quindi ovviamente la Coppa sarebbe passata di mano in mano da vincitore a vincitore fino a quando una nazione non avesse vinto almeno tre mondiali, non tre mondiali consecutivi, tre mondiali, e in quel caso quella nazione l'avrebbe potuta portare a casa. nel 1966 di nazioni che vincendo avrebbero potuto portarsi a casa la Coppa ce n'erano addirittura tre, c'era l'Uruguay che aveva vinto due mondiali, il Brasile che aveva vinto due mondiali e c'eravamo noi dell'Italia, anche noi a due mondiali, insomma si iniziava a sentire aria che quella Coppa potesse finire in qualche mano. c'è un problema il 20 marzo del 1966 la Coppa finì in effetti in mano a qualcuno ma a qualcuno che non era un giocatore di una squadra ma era un ladro perché il 20 marzo 1966 la Coppa fu rubata. È incredibile pensare oggi ma l'avevano portata all'interno di una chiesa per metterla in esposizione e approfittando di una cerimonia di una messa qualcuno era entrato in chiesa e se l'era semplicemente portata via. Quando i poliziotti se ne erano accorti ovviamente era troppo tardi. Nei giorni successivi ci fu anche un tentativo di ottenere un vero e proprio riscatto giunse un messaggio un uomo si presentò a ritirare la classica valigetta piena di soldi in realtà un po' carta un po' soldi e la polizia lo arrestò ma si scoprì poi che questo era stato pagato per ritirare la valigetta ma non sapeva assolutamente chi avesse rubato la Coppa. A risolvere il problema una settimana dopo il furto fu un piccolo cagnolino che si chiamava Pickles quella mattina insieme al padrone uscito per fare pipì improvvisamente Pickles iniziò ad abbaiare a cercare di indicare una specie di pacchetto che si trovava vicino a una macchina il padrone inizialmente ebbe un po' di fortuna e un po' di paura chiedo scusa perché era un'epoca in cui ogni tanto l'ira quindi il movimento terroristico per l'indipendenza dell'Irlanda metteva dei pacchi bomba e quindi c'era un po' paura che potesse saltare per aria ma alla fine la curiosità aveva preso sopravvento aveva aperto un po' quel pacchetto e aveva scoperto che era proprio la Coppa che era stata restituita se ne era peraltro già fatta una copia che fortunatamente non fu necessario utilizzare venne restituita e recuperata la Coppa finalmente si pote iniziare con i mondiali come organizzare questi mondiali ripeto nella maniera più semplice possibile quattro gironi da quattro squadre che si sarebbero incontrati tutti l'una contro l'altra per decidere chi sarebbe approdato ai quarti dove poi prime e seconde si sarebbero scontrate in maniera incrociata potete dire che anche questa volta i sorteggi furono un po' truccati sì ma forse un po' meno rispetto a 1962 intanto le squadre vennero divise in quattro tra virgolette quattro urne per così dire alla prima urna facevano parte le squadre del nord Europa che poi erano anche quelle un po' più forti alla seconda quelle del sud Europa alla terza facevano parte le sudamericane alla quarta facevano parte le due europee più deboli almeno così considerate cioè Bulgaria e Svizzera e quelle che venivano da fuori Europa e Sud America cioè Messico e Corea del nord in questo modo sulla carta si potevano fare dei gironi anche molto molto difficili ma per evitare perché ovviamente volevano evitarlo a tutti i modi all'Inghilterra di dover incontrare il Brasile si decise che l'Inghilterra sarebbe già stata nel gruppo 1 e il Brasile sicuramente nel gruppo 3 in questo modo se le due nazionali avessero vinto il loro girone l'unico modo di incontrarsi sarebbe stato solo in finale sono piccoli magheggi che anche oggi forse in qualche modo si cerca di fare il girone 1 quindi fu il girone dei padroni di casa che si trovarono un girone ripeto abbastanza facile con l'Uruguay il Messico e la Francia c'è da dire che in effetti però l'Inghilterra si era molto ben attrezzata per quei mondiali innanzitutto finalmente aveva deciso di porre fine anche loro a quell'assurdità dell'allenatore che però non sceglieva i giocatori che era veramente una cosa folle ed erano stati dati pieni poteri ad Alf Ramsey che era stato allenatore dell'Ipswich Town era considerato un buon innovatore nel calcio inglese era molto apprezzato e che finalmente metterà da parte il vetusto WM lo schema con cui l'Inghilterra aveva giocato fino a quel momento per passare al classico schema che tutte le nazionali principali utilizzavano in quegli anni cioè il 4-2-4 rubato dal Brasile del 1958 e poi così via che curiosamente Brasile non utilizzava più tanto essendo passata quasi un 4-3-3 ma le altre squadre continuavano ad utilizzare c'è da dire però che l'Inghilterra in generale aveva veramente una ottima 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 squadra in porta c'era Gordon Banks Banks è uno dei portieri con la carriera più lunga della storia in Inghilterra è considerato un idolo è stato per tantissimi anni record man di presenza nel campionato inglese nella nazionale superato veramente solo recentemente ha avuto per tantissimi anni il record di imbattibilità in nazionale anche questo superato proprio solo in questi ultimi anni era un portiere non molto avventuroso uno che non usciva molto ma molto reattivo tra i pali nonostante non fosse altissimo nel 1970 ma ne parleremo poi contro Brasile a fare la parata che è considerata una delle più belle parate di tutti i tempi proprio a Pelè ad ogni modo era una buona base la difesa era guidata da Bobby Moore Moore era un difensore ottimo considerato quasi un po' un regista dietro la difesa era il miglior difensore che all'epoca l'Inghilterra potesse esprimere pensate che rischio di non partecipare ai mondiali perché proprio in quell'anno gli era scaduto il contratto con la squadra con cui giocava che era il West Ham volendo cambiare squadra era rimasto senza contratto volendo poi legarsi a un'altra squadra il problema è che la federazione calcistica inglese non accettava di portare in nazionale i giocatori senza contratto e quindi Moore fu costretto in fretta e furia a firmare un nuovo contratto con il West Ham per un anno per poter partecipare ai mondiali davanti a lui come mediano teoricamente quindi a centrocampo ma davanti alla difesa giocava Stile che era chiamato Nosferatu Nosferatu perché era obiettivamente bruttino pallido con questi grossi occhi lo vedete qui nell'immagine ma per di più da bambino aveva perso i denti in un incidente e quindi anche se giocava con una specie di protesi aveva questi denti stranissimi con la faccia incavata inoltre era noto per attaccarsi all'attaccante avversario e non mollarlo in nessun modo all'epoca il calcio era decisamente violento a fianco a lui stava il capitano nonché colui che era considerato essere uno dei migliori giocatori inglesi ancora considerato adesso uno dei migliori giocatori inglesi di ogni tempo cioè Bobby Charton Charton giocava nel Manchester United ed era sopravvissuto insieme a pochi altri il cosiddetto disastro di Monaco un disastro aereo in cui era morta buona parte della squadra del Manchester era un centrocampista forse più una mezzala quindi tendenzialmente molto portato all'offensiva che era veloce dotato di un ottimo dribbling e soprattutto di un ottimo tiro dalla media e lunga distanza cosa che facevano di lui veramente un uomo molto molto pericoloso in realtà davanti l'Inghilterra era decisamente forte in vari livelli innanzitutto c'era Hunt che era il classico attaccante opportunista un po' alla Pippo Inzaghi per intenderci così ci capiamo classico attaccante che si fa sempre trovare al posto giusto al momento giusto non farà in realtà grandissime cose in questi mondiali ma all'epoca era molto ben considerato insieme a lui nelle prime partite giocherà Jimmy Graves Graves era considerato all'epoca un attaccante molto talentuoso un vero e proprio bomber di razza in quegli anni vincerà tantissime volte la classifica di capocannoniere non esisteva la Premier in First Division è considerato uno dei migliori giocatori di ogni tempo del Tottenham e nonostante anche lui avesse una vita un po' sregolata per i canoni dell'epoca tutti lo consideravano degli elementi di maggior prestigio della squadra in realtà dopo due partite del Girone si infortunerà e vicino ad Hunt sarà messo Horst il quale si dimostrerà talmente abile talmente bravo sia a coordinarsi con Charton e Hunt sia a segnare che alla fine anche quando Graves ritornerà alla fine del mondiale rimarrà lui come titolare e vista la finale che vi racconterò sarà una scelta decisamente buona ad ogni modo come vi dicevo il Girone sarà superato in maniera molto molto facile ad essere eliminati saranno il Messico e la Francia che orfana di Coppa non andrà molto lontano l'Uruguay non aveva esattamente uno squadrone neanche loro anzi per praticamente tutti i mondiali si attaccheranno letteralmente alle prestazioni del loro portiere Ladislao Marchievdel spero di averlo pronunciato bene magari ve lo metto qui vicino in piccolo portiere del Pegnarol che era chiamato il portiere nero perché si presentava sempre completamente nero cosa che ai mondiali peraltro non era così strano lo faceva anche Yashin ma a quanto pare in Uruguay abbastanza per dargli un soprannome il Girone 2 invece sulla carta era molto più interessante e molto più equilibrato perché ci dovevano essere tre squadre che si sarebbero dovute giocare il passaggio del turno e quelle squadre erano la Germania Ovest la Spagna e l'Argentina in realtà tutti i bookmakers davano strafavorite le prime due le europee la Germania intanto che aveva già una buona impalcatura l'abbiamo visto negli ultimi mondiali che fu in gran parte mantenuta a cominciare da USA in attacco ne abbiamo già parlato ma che in questo momento ha veramente uno dei centrocampi più forti del mondo tra uomini di esperienza e giovani promesse tra gli uomini di esperienza sicuramente il più famoso è Helmut Haller che è una mezzala diciamo così un centrocampista offensivo molto rapido degli inserimenti molto abile nel dribbling che peraltro gioca in Italia in questo periodo nel Bologna giocherà nella Juventus sarà vice capocannoniere della competizione a dimostrare di quanti gol per la Germania arriveranno dal centrocampo ed era un uomo assolutamente pericolosissimo se lanciato contro la difesa a fianco a lui a fare da rifinitore trequartista diciamo uomo da cui passano i palloni abbiamo Overrath giovanissimo 23 anni un uomo dai piedi molto molto buoni da cui passeranno molti dei palloni per la Germania sia in questo che nei successivi mondiali l'uomo però che inizia con questi mondiali a diventare simbolo della Germania è un altro si chiama Franz Beckenbauer Beckenbauer partecipa a questi mondiali a poco più di 20 anni gioca a centrocampo è un mediano peraltro in questi mondiali farà anche 4 gol quindi insomma dimostrerà una certa verba offensiva ma in realtà diventerà fortissimo ne parleremo nelle prossime puntate arretrando sempre di più diventando libero tanto ad essere considerati uno dei più grandi liberi della storia Beckenbauer sarà soprannominato anche per il suo essere il simbolo della Germania Kaiser Franz ma ripeto di lui ne parleremo nelle prossime puntate ad ogni modo la Germania fa quello che deve fare buoni risultati passa con molta facilità il turno e lascia che a giocarsi il passaggio siano le altre due cioè la Spagna e l'Argentina come vi dicevo sulla carta la favorita era la Spagna d'altronde aveva appena vinto gli europei due anni prima quindi insomma sembrava una delle squadre da battere non c'era più di Stefano l'abbiamo parlato argentino che in realtà non giocherà mai nessuna partita ai mondiali forse nella scorsa puntata mi ero poi dimenticato di dirlo non giocherà mai nessuna partita ai mondiali la Saeta Rubia non giocherà con l'Argentina non riuscirà a giocare per la Spagna perché nei mondiali del 62 non parteciperà si dice per un infortunio qualcuno dice perché in opposizione all'allora allenatore Legno Herrera non sarà convocato per questi mondiali perché ormai la sua parabola sarà ormai in via discendente quindi quello che è considerato da molti uno dei più grandi giocatori della storia non ha mai giocato i mondiali a sorpresa però la Spagna non ce la farà a passare nonostante i suoi giocatori nonostante il blocco del Real Madrid perché sarà battuta da un'Argentina decisamente fisica decisamente forte di cui parleremo un po' più avanti che riuscirà a battere la Spagna e riuscirà a qualificarsi per i quarti di finale il girone 3 invece come abbiamo già detto era quello del Brasile e su questo non c'erano dubbi quel girone sarebbe stato vinto dal Brasile che sulla carta schierava una squadra non molto dissimile da quella che aveva vinto i mondiali del 62 in realtà le cose non andavano più così tanto bene i giocatori molti dei quali peraltro avevano già giocato anche nel 58 erano invecchiati avevano iniziato una parabola discendente anche quando non erano vecchi come Garrincia in realtà erano ormai completamente fuori forma la squadra era molto molto stanca e la circolazione di palla che aveva terrorizzato il mondo per 8 anni era molto rallentata quella squadra però davanti aveva ancora Pelé Pelé che era al massimo della forza e di cui si pensava che potesse letteralmente vincere i mondiali da solo chi c'era in questo girone? beh c'era il Portogallo lo abbiamo nominato un attimino prima una squadra che esordisce peraltro a questi mondiali nessuno si poteva aspettare risultati incredibili in realtà il Portogallo aveva uno zoccolo duro di giocatori di una squadra il Benfica che in poco più di 6 anni era arrivato ben 4 volte in finale di Champions 2 volte vincendola e 2 volte invece perdendola a centrocampo c'erano degli ottimi giocatori del Benfica José Augusto Antonio Simoes ma soprattutto il capitano Mario Coluna che era chiamato o mostro sagrado letteralmente il mostro sacro perché era un giocatore con un carisma infinito in grado di tenere in piedi tutta la squadra ma soprattutto era un giocatore dai piedi assolutamente buoni di quelli che gli dai la palla e loro qualcosa da fare lo trovano sempre il Portogallo però aveva un'altra stella non il suo capitano peraltro ce la dire una cosa il Portogallo di quegli anni era veramente già una nazionale multietnica a differenza di altri nazionali che erano ancora molto locali per così dire il Portogallo aveva già iniziato ad integrare coloro che venivano dalle colonie le poche colonie che il Portogallo allora una dittatura di Salazar ancora aveva sotto il suo controllo dalle colonie proveniva ad esempio Mario Coluna ma proveniva anche la stella della squadra cioè Eusebio Eusebio era considerato all'epoca probabilmente il miglior attaccante che giocasse in Europa e i paragoni con Pelé si sprecavano aveva 26 anni peraltro di costituzione fisica non erano così diversi se Pelé era chiamato la perla nera lui era chiamato la Pantera nera per la sua agilità la sua capacità di colpire anche a mezza altezza la palla con una agilità incredibile la sua velocità il modo in cui letteralmente aggrediva il campo questi uomini avevano trascinato al Benfica una serie di risultati ma il simbolo era proprio lui ancora oggi considerato nonostante Cristiano Ronaldo da molti il miglior giocatore che il Portogallo abbia mai espresso nel gioco del calcio Eusebio farà un mondiale strepitoso farà valanghe di gol quando il Portogallo sarà in difficoltà se la caricherà sulle spalle a 26 anni giocherà il mondiale al massimo della sua forza chi poteva fermare queste due squadre? beh sicuramente non la Bulgaria che di fatto nella prima partita con il Brasile perse 2 a 0 in realtà però la partita il Brasile la giocò malissimo vinse 2 a 0 con gol di Pelé e Garrincia e tutto sembrava normale ma i due gol arrivarono solo su punizione ebbero poche occasioni da gol ma soprattutto il Brasile venne colpito da una vera e propria caccia all'uomo fatta dai Bulgari che letteralmente menarono 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 per tutta la partita ce la dire che per tutto il mondiale gli arbitri furono molto permissivi da questo punto di vista arbitrarono all'inglese e forse anche un po' oltre fatto sta che Pelé venne letteralmente picchiato picchiato fino a quando l'ennesimo colpo preso sul ginocchio lo costrinse a fermarsi e così nella partita successiva la seconda il Brasile si trovò senza il suo giocatore migliore ora sulla carta erano comunque più forti l'Ungheria con cui si andavano a scontrare non era lo squadrone che ovviamente era nel 54 non c'era più l'Ungheria d'oro era comunque una buona squadra c'è da dire che aveva ottenuto anche dei buoni risultati negli ultimi anni ma sulla carta non avrebbe dovuto impensierire il Brasile e invece andò esattamente il contrario a salire sugli scudi mancando Pelé sarà Florian Albert giocatore che per l'altro abbiamo già nominato nella scorsa puntata perché era stato uno dei tanti capocannonieri del mondiale 62 e che se farà tre assist per il 3 a 1 con cui l'Ungheria riuscirà a battere il Brasile tra i tre gol ce n'è uno segnato da Farkas con un colpo a mezza altezza che è la fine del mondo andatelo a cercare merita veramente veramente tanto a questo punto il Brasile arrivò all'ultima partita con il Portogallo con il rischio di essere eliminato perché l'Ungheria poteva veramente sopra avanzarlo ed era una partita da dentro fuori Pelé a cui i medici avevano in realtà sconsigliato di giocare decise comunque di entrare in campo ma il ginocchio non gli dava tregua e i portoghesi che lo sapevano benissimo tornarono anche loro a pestare sul ginocchio fino a quando Pelé non sarà costretto a camminare per tutta la partita osservando i suoi compagni perdere 3 a 1 anche contro il Portogallo l'immagine di Pelé infortunato con una giacca che esce fuori dal campo fu il simbolo del Brasile quel Brasile da cui ci si aspettava il terzo mondiale consecutivo e che invece uscì mestamente già ai gironi Portogallo e Ungheria andarono avanti per giocarsi la Coppa arriviamo così al quarto e ultimo girone quello dell'Italia questo girone sulla carta aveva di nuovo due grandi favorite e le grandi favorite erano l'Unione Sovietica e l'Italia nel girone c'era anche il Cile e l'Italia giocò proprio la prima sua partita contro il Cile una partita che ovviamente sarebbe dovuta essere la vendetta dei mondiali nel 1962 e in cui in effetti gli italiani vinsero 2 a 0 nonostante il risultato però il gioco non fu esattamente quel gioco spumeggiante che ci si poteva aspettare e Fabri l'allenatore forse rilasciò delle dichiarazioni non proprio molto accettate dall'ambiente attaccando i giocatori dicendo che non avevano giocato almeno delle loro possibilità e questo insomma dopo una vittoria la prima partita dei mondiali forse non è l'approccio giusto per la seconda partita l'Italia si trovò a scontrarsi contro l'Unione Sovietica chi c'era in porta nell'Unione Sovietica? ormai lo dovete sapere il ragno nero Yashin che nel 1966 avrà il suo ultimo mondiale ormai a 36 anni dimostrandosi peraltro ancora un portiere fenomenale forse non aveva più l'agilità dei suoi anni d'oro ma un'esperienza incredibile in realtà però quell'Unione Sovietica aveva veramente ottimi giocatori in ogni zona del campo in difesa come libero giocava Albert Sesternev che nonostante ci fosse Yashin nonostante fosse più giovane era il capitano della squadra era libero ma era un libero un po' atipico invece di randellare come facevano tanti suoi compagni tendeva a essere più che altro un regista nascosto molto spesso la palla usciva tramite lui impostava la squadra e dirigeva molto bene la difesa a centrocampo sono i mondiali che vedranno veramente l'esplosione di Voronin ne abbiamo parlato nella scorsa puntata centrocampista dai piedi buoni quelli che si dica un centrocampista box to box che va a prendere palla in difesa e va poi a creare l'azione in attacco un uomo si dice di un'eleganza nel gioco unica tant'è che pensate sarà premiato alla fine del mondiale dalla stessa regina Elisabetta come giocatore più elegante del torneo peraltro era bellissimo di aspetto e questo ovviamente aiutava e come purtroppo Voronin due anni più tardi avrà un incidente stradale anche un po' misterioso rimarrà lontano dai campi a lungo tornerà non era più lui non era più in grado di giocare a quei livelli morirà tra non molti anni preda dell'alcolismo in una situazione molto strada abbiamo già parlato nella scorsa puntata è veramente un peccato uno di quei giocatori eleganti che sono stati un po' dimenticati dalla storia coperti da altri grandi campioni ma che meriterebbe probabilmente delle storie a lui dedicate in attacco invece curiosamente l'Unione Sovietica troverà la sua migliore punta solo dalla terza partita quella col Cile si chiamava Por Kujan aveva 22 anni e entrato contro il Cile segnerà e non uscirà più tanto da diventare addirittura il capo canoniere dell'Unione Sovietica ai mondiali inutile dire quindi che questa squadra che affrontò l'Italia era una bella squadra e l'Italia invece di affrontarla con i suoi uomini migliori fu completamente rivoluzionata da Fabri il quale non solo schierò una squadra molto molto remissiva catenacciara va bene ma con poche possibilità di ripartenze ma stravolse completamente la squadra rendendola così preda dei sovietici che vinsero 2 a 1 dopo comunque una partita molto combattuta in Italia appena si seppe di quella sconfitta come sempre si iniziò a orlare al fallimento oh mio dio siamo usciti dai mondiali disastro non riusciremo a fare nulla in realtà sulla carta la terza e ultima partita era abbordabilissima dovevamo giocarcela contro la Corea del Nord squadra che era unanimamente considerata la squadra più debole tra tutte quelle che avevano partecipato ai mondiali pensate che i giornalisti italiani conoscevano talmente poco quella squadra che non solo facevano fatica a pronunciarne i nomi ma addirittura molto spesso sbagliavano la posizione in campo tant'è che uno dei giocatori più rappresentativi di quella squadra Pac Duic che giocava in attacco sarà considerato per molto tempo dai giornalisti un centrocampista sbagliando completamente ad ogni modo l'Italia iniziò quella partita con la sua formazione migliore per vincerla e nei primi minuti continuamente creò tutta una serie di occasioni da gol arrivando più volte a tirare in porta senza però avere fortuna progressivamente però le forze iniziarono a calare agli italiani anche perché uno dei suoi centrocampisti più importanti cioè Bulgarelli venne che tra l'altro da capitano si infortunò lasciando quindi l'Italia in 10 a questo punto la Corea del Nord che dal punto di vista fisico correva e correva tanto ma soprattutto erano molto abili a giocare fra di loro riuscì incredibilmente a passare in vantaggio a portarli in vantaggio fu proprio Pak Du Ik che segnò l'1-0 per la Corea del Nord e divenne praticamente una leggenda sia in patria ma anche in Italia anche perché iniziò a circolare la voce che quel giocatore fosse pensate un dentista e ancora oggi si trova su tantissimi segnato da tantissime parti che quell'anno l'Italia prese un gol da un dentista ora non si può dire che nel secondo tempo l'Italia non ci provò a pareggiare ci provò ma le forze man mano vennero sempre meno e alla fine con la sorpresa di tutti la Corea del Nord si qualificò spedendoci a casa un altro fondo della nostra storia calcistica era stato toccato e ho detto tutto l'Italia rientrò in patria nel disastro più totale si cercò di farli tornare di nascosto ma ovviamente i tifosi lo vennero a sapere attaccarono la nazionale lanciando gli ortaggi uova qualunque cosa ci fu un terremoto nella Federcalcio e si decise proprio per quello che era avvenuto di vietare il tesseramento di nuovi stranieri quindi dal 1966 fu vietato il tesseramento di nuovi stranieri in Italia si permise solo a quelli già presenti di continuare a giocare fino a che non se ne fossero andati e la chiusura al tesseramento stranieri durerà fino al 1980 e forse questo fu uno dei motivi per cui negli anni 70 le squadre italiane dal punto di vista internazionale non riuscirono a ripetere i buoni risultati degli anni 60 si arriva così ai quarti di finale con le ultime otto squadre quarti di finale che dal punto di vista dell'arbitraggio saranno un totale disastro partiamo dalle prime due partite quelle che andarono in maniera un po' più regolare nella prima l'Unione Sovietica battè 2 a 1 l'Ungheria partita combattuta ma i sovietici oggettivamente meritarono di passare il turno la seconda partita fu invece una sorpresa incredibile Corea del Nord Portogallo la Corea del Nord è pensata era stata adottata da molti inglesi che l'avevano addirittura seguita e dato che ovviamente non c'erano praticamente tifosi a seguito della squadra e partecipavano alle partite proprio tifando per la Corea del Nord ai quarti di finale la Corea si trovò il Portogallo anche qua i bookmaker dissero risultato chiuso la Corea ha fatto un miracolo con l'Italia non può ripetersi invece nei primi 25 minuti la Corea del Nord si trovò avanti 3 a 0 sembravano indiavolati dovunque andasse la palla là c'erano 3 coreani 3 a 0 a questo punto però per il Portogallo si scatenò Eusebio che nei minuti successivi fece ben 4 gol portando il risultato finale grazie poi a un altro gol al risultato di 5 a 3 pericolo scampato per il Portogallo ma la Corea che tornata in patria sarà colta da festeggiamenti giganteschi per quello che erano riusciti a fare aveva oggettivamente dimostrato di essere molto forti peraltro recentemente è stato fatto un documentario che è andato proprio a intervistare gli ultimi 7 giocatori rimasti di quella squadra che raccontano il modo in cui vennero poi accolti in patria perché se queste due partite sono state regolari ho detto che i quarti gli arbitraggi furono scandalosi perché ci fu qualcosa di che andò decisamente meno bene nelle altre due partite erano due partite incrociate una squadra sudamericana contro un'europea l'Uruguay contro la Germania l'Argentina contro i padroni di caso dell'Inghilterra cosa ci fu di strano? beh innanzitutto la scelta degli arbitri un arbitro inglese per arbitrare la Germania un arbitro tedesco per arbitrare l'Inghilterra ed entrambi gli arbitri arbitrarono malissimo la partita della Germania sulla carta venne vinta dalla Germania 4-0 contro l'Uruguay ma il risultato è assolutamente bugiardo perché non solo la Germania passò sì in vantaggio ma l'Uruguay segnò un gol assolutamente regolare che non venne convalidato ma da quel momento l'arbitro inglese iniziò letteralmente a punire solo gli uruguagi con il risultato che l'Uruguay si trovò prima in 10 poi in 9 e solo a quel punto negli ultimi minuti la Germania riuscì a segnare i tre gol con un Uruguay ormai stremato quindi un 4-0 che proprio tanto regolare non era la vera vergogna però ci fu nell'altra partita quella tra Inghilterra e Argentina anche qua fin dall'inizio l'arbitro arbitrava a senso unico qualunque cosa facessero gli inglesi per quanto pestassero gli avversari nessun cartellino nessun fallo niente di niente appena gli argentini sfioravano un inglese venivano subito ammoniti l'arbitro tedesco che peraltro non parlava una parola di spagnolo quindi non capiva che cosa gli dicevano gli argentini iniziò a creare un malumore incredibile e di fronte all'ennesima munizione assolutamente falsa il capitano dell'Argentina si presentò a chiedere spiegazioni Quell'uomo che era alto magro ma bello forte bello possente era il mediano della squadra si chiamava Antonio Rattin detto El Rata l'arbitro disse che si vede venire incontro quest'uomo che gli parlava dicendogli cose incomprensibili con aspetto minaccioso e quando El Rata gli fu vicino senza neanche ascoltarlo e senza notare peraltro che lui era il capitano quindi poteva andare a chiedere spiegazioni all'arbitro senza neanche ascoltarlo lo ammonì e lo espulse perché era già ammonito il problema è che El Rata non volle ascoltare quello che gli era stato detto e non volle uscire dal campo chiese che fosse portato un traduttore che spiegasse che cosa stava succedendo e alla fine furono i poliziotti a doverlo portare fuori con il pubblico inglese che lo riempiva di insulti e una volta uscito per maggior ancora più insulti si sedette sul tappeto dove sarebbe dovuta poi passare la regina si fermò lì riempito di insulti dallo stadio che iniziò a chiamarlo animale in realtà animale e poi animali tutti gli argentini compreso il terzino marziolini che farà poi votato come miglior terzino del mondiale ebbene tutti a chiamare animale gli argentini saranno anche gli inglesi compreso il loro allenatore scatenando qui una serie di ripicche da una parte dall'altra che in realtà erano già iniziate perché gli argentini si vantavano di aver già battuto gli inglesi una volta gli inglesi dicevano che non era vero non era una partita ufficiale insomma quelle classiche cose da stadio una serie di ripicche che poi per motivi politici continueranno anche negli anni successivi gli argentini ci metteranno un po' di anni al vent'anni per prendersi la loro rivincita ma come sapete poi con Maradona se la riprenderanno ad ogni modo in questa situazione assolutamente devastante nonostante le capacità dell'argentina l'inghilterra passò il turno tanti dubbi sull'arbitraggio ma comunque in semifinale arrivarono quattro squadre europee a questo punto non erano pochi ad essersi convinti che l'obiettivo fosse di avere una finale inghilterra-germania molti ne erano convinti e gli arbitraggi anche delle semifinali un po' lo confermarono questa volta la partita più vergognosa fu Germania Unione Sovietica le due squadre si confrontarono a lungo anche alla pari fino a quando l'Unione Sovietica non si trovò prima a giocare in 10 per un infortunio per un'entrataccia ovviamente non punita e poi a giocare invece in 9 per un'espulsione che tutti i giornalisti dell'epoca dissero essere stata completamente inventata grazie a quelle espulsioni la Germania si trovò a poter giocare la finale l'Unione Sovietica fu comunque abbastanza contenta del risultato perché erano anni in cui in effetti i sovietici erano tra le nazionali più forti del mondo nell'altra partita invece Inghilterra Portogallo molti temevano che la situazione sarebbe stata la stessa invece bisogna dire che quella partita fu abbastanza regolare gli inglesi giocarono oggettivamente meglio dei portoghesi che forse giunti in semifinale si sentirono un po' tremare le gambe d'altronde anche con la Corea non è che avessero giocato benissimo questa volta solo Eusebio che venne preso dalla difesa inglese che letteralmente non gli fece toccare il pallone non fu in grado di riuscire a trascinare la squadra e alla fine l'Inghilterra riuscì a vincere per 2 a 1 la finalina sarà vinta dal Portogallo che con il terzo posto otterrà i migliori risultati mondiali della sua storia ma tutti stavano aspettando la finale Inghilterra padrone di casa contro la Germania una finale da giocarsi in quello che viene chiamato il tempio del calcio cioè Wembley le due squadre sulla carta non erano molto diverse anzi per gran parte della partita si disse che i loro giocatori erano riusciti quasi ad annullarsi a vicenda i primi a passare in vantaggio furono i tedeschi che però vennero subito raggiunti da un gol di Hurst che come vi dicevo prima nonostante il ritorno del titolare era stato comunque preferito di Graves era stato comunque preferito ed era rimasto al suo posto nell'attacco 1 a 1 per l'Inghilterra che poco dopo riesce a fare anche il 2 a 1 sempre arrivare verso la fine dei tempi regolamentari sul 2 a 1 quando la Germania invece riesce a segnare 2 a 2 e si va ai supplementari fino a questo momento la partita non è stata malarbitrata certo qualche episodio favorevole all'Inghilterra ma in generale era una partita abbastanza regolare i tempi supplementari saranno invece un disastro il primo problema è il 3 a 2 Hurst ruba palla tira verso la porta colpisce la traversa la palla dopo aver colpito la traversa ricade sulla linea di porta gli inglesi festeggiano i tedeschi dicono che non è gol il regolamento all'epoca dice chiaramente che la palla per essere considerata in gol deve superare completamente la linea di porta e tutti i tedeschi hanno visto la palla rimbalzare sulla linea l'arbitro che era un po' lontano dall'azione non ha visto nulla non c'è ovviamente il VAR non ci sono telecamere da rivedere e così si affida agli unici occhi oltre ai suoi che possono aver visto quelli dell'arbitro sovietico delle chiedoture del guardaline sovietico il guardaline non ha dubbi è gol indica il centro del campo in realtà la discussione tra i due è un po' comica perché i due non hanno una lingua in comune e i tedeschi iniziano a circondare l'arbitro chiedendogli spiegazioni dicendo che non è gol e poi vanno dal guardaline ma come farà notare anche un po' malignamente il commentatore inglese il guardaline non parla tedesco parla solo russo e turco e i tedeschi non lo capiscono a vedere dalle immagini il guardaline non era nella posizione corretta per valutare perché era anche lui molto arretrato si è preso una ha dato un'indicazione del tutto falsata ci volevano parecchi giorni per avere delle immagini un po' precise ma oggi sappiamo per certo che quel gol non era gol a questo punto i tedeschi si lanciano in avanti cercando il pareggio ma il pareggio non arriverà a segnare invece il quarto gol sarà ancora una volta l'Inghilterra ancora una volta con Hurst che segnerà il quarto gol molto probabilmente in fuorigioco quindi anche questo sarebbe stato da annullare alla fine però nonostante le proteste dei tedeschi l'arbitro segnò la fine della partita 4 a 2 e l'Inghilterra vinceva in casa nel 1966 dopo 36 anni della nascita dei mondiali vinceva il suo primo mondiale sarà Bobby Charlton a ricevere la coppa dalle mani della regina Elisabetta felicissima di poter finalmente premiare un inglese si temeva che dovesse premiare un tedesco magari qualcuno non sarebbe stato tanto contento si dice che Bobby Charlton salendo per prendere la coppa si sia fermato sul velluto su cui la coppa era appoggiata per pulirsi ben bene le mani per non dare la mano infangata alla regina gli inglesi festeggiarono questa vittoria cantando che la coppa era tornata a casa che la casa del calcio finalmente poteva festeggiare il suo mondiale ma tantissime ombre si addensarono su quella vittoria ombre per un gioco decisamente troppo violento che ancora una volta punì le squadre che giocavano invece in maniera più leggera diciamo anche più moderna come ad esempio Brasile ombre per degli arbitraggi assolutamente assolutamente insufficienti per la violenza ma anche proprio per delle scelte non proprio perfette ombre perché dai quarti in poi le cose sembrano essere un po' troppo pilotate ad ogni modo l'Inghilterra riuscì a vincere quel mondiale e forse un po' per punizione da allora di mondiali non ne ha più vinti chissà se sarà questo l'anno buono la prossima puntata andiamo a Messico 70 che ci riporta di nuovo in America e sarà un mondiale completamente diverso completamente diverso perché le squadre giocheranno un calcio migliore diverso perché ci saranno delle partite epiche tra cui la partita del secolo Italia-Germania ne parleremo nella prossima puntata diversa anche per l'Italia perché l'Italia dopo la scoppola presa nel 66 accelererà di nuovo il rinnovamento della squadra troverà finalmente la quadra nel 1968 riuscirà a vincere i suoi primi europei e poi non ne vincerà più fino a quello vinto l'anno scorso e si presenterà ai mondiali del 70 con una squadra decisamente più forte anche il Brasile però seguirà la stessa strada e sarà un mondiale molto molto interessante io mi fermo qua spero che questi mondiali del 66 vi siano piaciuti sto raccogliendo un po' di idee su come sto portando avanti questa pillola profitto vi rubo ancora un minuto mi rendo conto di fare delle pillole molto lunghe letteralmente infarcite di aneddoti mi rendo conto che così la narrazione un po' ne perde sono forse un po' più difficili da seguire per chi non è appassionato di calcio ma io per primo mi sto divertendo tantissimo a trovare tutti questi aneddoti quindi se pensate che la pillola non vada bene così ditemelo preferite qualcosa di un po' più veloce ma io francamente preferirei rimanere su questo tutta questa aneddotica anche a costo di raccontare personaggi squadre appena citati di poco interesse perché secondo me è la cosa un po' particolare come sempre ringrazio Matteo che ha trovato il grosso del materiale per questa pillola ringrazio tutti quelli che mi segnalano chicche per i mondiali come sempre queste sono serie abbastanza comunitaria se volete potete riascoltare questa puntata o le altre della serie qui sul canale trovate in descrizione la playlist o potete riascoltarla sul nostro podcast anche quella la trovate in descrizione e per il resto come sempre io vi ricordo di essere curiosi perché la storia del mondo là fuori è piena di avvenimenti e storie fantastiche storie incredibili che nessuno scrittore nessun regista avrà mai la fantasia di mettere nelle loro opere e se volete iniziare a curiosare tra queste storie qui a fianco c'è l'elenco delle pillole uscite fino adesso noi ci vediamo presto con una nuova pillola di storia ci vediamo tra due settimane per Messico 70 a presto ciao 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 Grazie.